Se volevamo una partita molto simile a quella che sarà fra sette giorni la prima sfida dei playoff, di meglio non se ne poteva trovare. Un avversario che ha la necessità di vincere, ma questa necessità ce l'abbiamo anche noi, perché vincendo avremo la matematica certezza di essere la migliore quarta e quindi avremo gli stessi vantaggi delle terze e delle seconde, tranne il fatto che loro hanno la possibilità di saltare il primo turno, soprattutto per il turno successivo. Sarà complicata perché troviamo una squadra che dopo un periodo di crisi ha ritrovato entusiasmo, con l'arrivo del nuovo mister hanno fatto sette punti in tre partite, hanno avuto la capacità di vincere le ultime due, una in trasferta a Pistoia e l'ultima in casa con il Siena, sanno benissimo che solo attraverso una vittoria potrebbero, e uso il condizionale perché se dovesse vincere il Prato non basterebbe neanche questo, potrebbero avere la salvezza diretta, però troveranno un avversario che ha la stessa necessità, siamo in casa nostra, abbiamo la voglia di chiudere questo campionato nel migliore dei modi, nella consapevolezza che sarà una guerra, sarà una battaglia, sarà una partita dove probabilmente negli ultimi 20 minuti ci saranno continui ribaltamenti di fronte e dove ci sarà la necessità di essere sempre lucidi, sempre in partita, sempre insieme a lavorare anche quando rischi di spaccarti perché solo così riuscirai a averla meglio su un avversario che in questo momento sta anche bene fisicamente. Continuerà a giocare Luciani a destra e ridarò un po' di minutaggio perché ha smaltito completamente il problema che lo aveva un pochettino bersagliato nell'ultimo periodo a Sabatino, poi cambia poco, darò ancora continuità avanti a Polidori, rientra Davide, la squadra ve l'ho già detto.